Salve a tutti, siamo oggi qui in una nuova puntata, c'è un ospite molto speciale, un ospite che ha segnato Roma, lo so, che già avete capito chi è? Perché chi è che ha segnato Roma? Chi è che si è messo orla? Chi è che ha detto se abbiamo tutta Roma? Solo uno, è unico, il libanese, l'ottavo re di Roma, un applauso a Bontanari! Ciao a tutti, purtroppo abbiamo fatto un prologo molto glorioso, purtroppo è morto, però diciamo sì, la gloria resta, no, sono molto contento, ciao a tutti, come va? Bene, grazie, grazie di essere qui. Allora, io ho una domanda, per te, tutti noi ti conosciamo sotto le veste giustamente, che ora sono passati forse 15 anni, 20 anni, tantissimo, no? Sì, 15 anni. 15 anni del libanese, della serie che comunque sia, ha fatto moda per Roma, ma sicuramente ti ha portato anche delle problematiche, quel periodo che tu eri un'icona ti ha creato discussioni in periferia, quando giravi per strada che qualcuno oltre a chiederti la foto voleva pure sfidarti, tipo ma tu chi sei? No, guarda, fortunatamente no, anche perché sarebbe caduto un mito, perché chiaramente io poi, la prima pizza è mia, figlio. No, non dire così. No, io come ho detto la mia compagna, guarda, io con le pistole, vabbè ma senza pistole so' paperino, quindi capisci bene. Bello, ci piace. Capisci bene. No, no, devo dire no, anzi c'è stato sempre una sorta di goliardica, come dire, entusiasmo, rispetto, sì certo, poi è chiaro che è un gioco, ovviamente, però sì, insomma, sono contento e orgoglioso di aver fatto un prodotto che è entrato nella cultura proprio italiana, italica, insomma, che ha, a parte vabbè che è stata la prima serie italiana, diciamo, a livelli internazionali e questa l'ha fatto grazie a Sky, a Tleia, insomma, una pay tv che ha potuto investire su un prodotto, però è stato un fenomeno culturale dopo, no? Veramente, non solo a Roma ma in tutta Italia, io mi ricordo quei periodi, io avevo 23 anni, poi ero piccolissimo, però improvvisamente, mi ricordo la prima volta che mi hanno riconosciuto, che stavo al supermercato con mio fratello, la serie credo che andò in onda, cominciava ad andare in onda a ottobre, su Sky, è la prima serata, era verso Natale perché io stavo con mio fratello a fare la spesa per Capodanno perché avevamo deciso di fare una festa in Campania così, e c'era sto signore all'Alessandrino, io sono del quartiere all'Alessandrino, conosciamo? Eh sì, insomma, stavo lì alla, no vabbè, supermercato senza far sport, no vabbè, salutiamo gli amici cassieri del supermercato, no stavo lì a quel supermercato molto grande che c'era l'Alessandrino e... Ma come si chiama? Lo dico, è Carrefour, è Carrefour, che prima era GS, credo che all'epoca già fosse diventato Carrefour, ora non mi ricordo, era bella l'AGS, è l'AGS, è l'AGS, carrelli di ferro, bellissimi, bellissimi, io sono cresciuto come te l'AGS e praticamente c'era sto signore che ci aveva avuto, boh, 60 anni, che mi guarda e io e mio fratello diceva, che sta succedendo? Che sta succedendo? Che sta succedendo, qui non abbiamo fatto niente male, stava a fare la spesa perché che cosa? Capodanno, capodanno e lui fa, ma te sai quello? Dico, ecco ho fatto, ma che ho fatto? E poi ti ricordo certo, perché fai i danni, non ti ricordi, no, dieci anni prima, eh capito, ma te sei quello che sta in televisione? E io lì per lì non realizzo, perché sai, televisione, non è che mi ha, per carità, avrei potuto capirlo subito ovviamente, però non ci pensavo, no? Era uscita da poco, era uscita? Sì, da un mesetto, da un mesetto, perciò ancora doveva prendere piede, poi esplosa dopo, molto dopo, è uscita in televisione proprio da Roma, capito, esatto, e quindi, poi capisco, perché lui mi dice, tu sei quello là che fa le cose bru, 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 le cose trucidi, mio fratello capisce, schizza col carrello, io mi metto a ridere, mi imbarazzo tantissimo, viene da piangere, poi questo signore è stato un bel lavoro, quella è stata la primissima volta, poi le altre non ne ho tant'avevo, cioè la seconda, terza, non lo so, non mi ricordo, però, e lì ho capito che evidentemente qualcuno la stava guardando, e quindi ho capito che quando fai le cose, qualcuno le voglio sapere, hai capito? Vada bene, poi la prima volta è curioso, cioè non sei abituato a quello, capito, tu hai sempre fatto, hai studiato, hai fatto, però sempre cose un po', almeno io avevo fatto cose più di, come dire, di meno visibilità, diciamo, su grandi numeri, no? Tanto teatro e cose, quindi non ero abituato. Non ti aspettavi questo successo di Romanzo Criminale dopo il film di Michele Placido, una serie? No, guarda, sinceramente… Parate tutti sconosciuti, comunque, come noi… C'era solo Marco Giellini, che comunque ancora era, come dire, un attore straordinario, stimato molto, però era molto conosciuto nel settore, cioè non era ancora nazional popolare. No, è vero, è vero. Dopo la serie, insomma, ha cominciato a crescere tantissimo come popolarità, però, sì, eravamo tutti… Ah, pure Alessandra Mastonardi c'era, no? Che aveva fatto già delle cose, però, insomma, non c'era nessuno di… popolare. E il successo, sai, non lo so, io ho capito che il successo, poi vieni a seguire, è un animale curioso, cioè un animale strano e non dipende necessariamente dalla validità del prodotto. Dipende da contingenze di marketing, di momento storico, di circostanze. È chiaro che tu, per essere conosciuto, devi stare su canali che arrivano ai più, perché sennò questo è chiaramente nostro. Però, sicuramente tutti avevamo l'impressione, avendo letto le sceneggi, tu l'hai studiato, conoscendo Solima, perché io ho fatto sette provini poi con Stefano per fare questo ruolo e io stimavo già Vinicio Marchioni, era un suo grande fan. Davvero? Sì, perché lui faceva compagnia teatrale con Giuseppe Marini, Claudio Santa Maria, Giorgio Colangeli, Giordano Legrano. Già era più navigato? Sì, sì, lui stava… Beh, Vinicio è esattamente, credo, del 74, io sono dell'84, Vinicio è… 84, sei? Sì, sono 84. Mi faccio 40 anni. Esatto. E a ottobre… Avrei detto di più? 40 anni. Sì, tutti dicono di più. È figura, da 23 anni ho fatto libanese, bravo. Eh, libanese, 15 anni, sì, è vero, hai ragione. Eh sì, e sì, a ottobre faccio 40 anni, sì, e praticamente tutti sapevamo, insomma, che c'era tanto la professionalità, diciamo, sotto tutti gli aspetti di questa serie, però poi sai il successo, magari diventava una serie cult dopo 20 anni, va a capire, non lo so. Che non ne poteva… Che ne sai, magari no, magari diventava niente. Cioè è pieno anche di bei prodotti, bellissimi, che però non hanno un eco, come è pieno di prodotti non necessariamente celsi, che però hanno un eco spasmodico, no? Cioè la casa di carta, ora dirò una cosa impopolare, la casa di carta non è stratosferica come serie, diciamo. Capisco che piace tanto, però diciamo sto fenomeno mondiale… Pensa il caso, la casa di carta, la prima visione, va su un canale generalista spagnolo, perché sei spagnolo. Volarai? Sì, generalista, ma non so se Rai o Mediaset equivalente, e fa un flop totale. Va malissimo, malissimo, tant'è che non commissionano manco la seconda stagione. La acquisisce Netflix, perché comunque a un certo punto la grande multinazionale del genere, la piattaforma, si trova soprattutto in un momento storico di pandemia, no? Si trova a dover… stanno tutti a casa, quindi la gente guarda, o legge, o guarda, o fa spesa. Cioè questo facevamo, no? Sì, è vero. E a un certo punto… C'è stato il boom della piattaforma… Esatto, dopo aver… E il delivery. E il delivery. Dopo aver avvolto, diciamo, soddisfatto i bisogni fisiologici primari. Amazon, la casa nostra, proprio. I fattori li amavamo, li odiavamo, li litigavamo sotto casa. Amici, amici. Tutti azionisti, capito? I volontari dei seguiti nazionali. I pacchi. I pacchi. Ha bisogno di riempire contenuti. E quindi prende tutto. E a un certo punto prende la casa di carta, che chiaramente su Netflix, per il momento storico, l'inconscio collettivo, la riproposizione dell'inno partigiano, quello che vuoi, esplode! Mondialmè, che poi è stato pure il destino di Marefuori, no? Che è esploso grazie… Però scusate, a casa di carta va bene, ma Marefuori, oltre la canzone, io l'ho visto, sinceramente. Io pure ho visto. Non voglio parlare male di nessuno. Ma quello è un prodotto che ha delle caratteristiche specifiche e deve avere un target specifico, quindi è chiaro. Però è un successo, secondo me, spropositato per la storia. Dico la verità. Guarda, questo non lo so. No, io dico quello che penso sul genere criminale che mi piace. No, è il tuo gusto. Non conosco le realtà, però un carcere che sta appiccicato al mare e non si capisce dentro che sta nei guardi. Perdonatemi. Ma no, ma ti dico, perché secondo me lì non c'è tanto un tentativo di ricostruzione realistica. Sì, no. Non l'ho visto. Non è stato detto. No, poi io non l'ho fatto, chiaramente. Però c'è un altro tipo. Cioè, secondo me lì c'è un intento di colpire un target più giovanile, adolescenziale e leggermente più grande su tematiche, diciamo, umane che riguardano quella età. Un po' alla Romeo Giulietta, diciamo... Poi è chiaro che pure lì, per esempio, Marefuori, la prima messa in onda è Rai. Sì. Quindi è chiaro che tu hai delle regole del Prinzesto Rai. Poi va su... Esplode su RaiPlay, che è una piattaforma multimediale della Rai, che è un po' come Netflix, uguale a piattaforma mediatica, e esplode. Comunque quello tu devi prenderne atto nel senso. No, 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 assolutamente. No, no, per carità, io guarda, poi ti dico, capito. Io parliamo del genere che ci piace. Sì, certo, ma ci sta che a te non ti interessa, cioè giustamente. Per dire, c'è chi odia Scarface e io dico non capito. Pensa che Scarface, quando uscì? Un flop totale. Perché uscì, era prima un altro Scarface. Eh, lo so, sì. Che era quello, il principale. Esatto. Questa l'ha detta Daniele Costantini alla prima puntata del podcast. Innanzitutto, se non interrompere... Innanzitutto, fatti i cazzi. Innanzitutto, fatti i cazzi. Innanzitutto, fatti i cazzi, noi tanto tagliamo. Però quello che dice Costantini che è vero. Aspetta, però lo Scarface era molto più vecchio, eh. No, ma fu un flop perché la performance, secondo me, stratosferica di Al Pacino venne considerata overacting. Troppo. Hai capito? Quando io credo... Scusate, fa finta di capire l'inglese che fanno. Overacting è chiarissimo. E cosa vuol dire? Overacting è... È come smartphone, dai. No, no. Smartphone. Ormai si capisce. Come phone. Non devi direlo. Va bene, grazie. Overacting. Ok, ok, ok. No, dicevo perché... Io l'ho adorata quella... Performance. Eh, vabbè, io c'ho un problema proprio di feticismo con Al Pacino, quindi insomma, previsto dal vivo, spettacoli, come... E me lo so, non so. Cioè, nel senso... E lo so, non ho fatti. Però perché magari per quel determinato momento storico in cui è uscito quel film, a livello, come dire, credo, di star system diciamo americano, hollywoodiano, del momento storico, magari non era ancora stata compresa quella modalità. Perché secondo me non era eccessivo. Sicuramente era un personaggio molto carico. Sì. Questo sì. Però è chiaro che era molto funzionale, secondo me, all'interno di quella regia lì. È chiaro che se doveva essere un documentario magari era eccessivo. Assolutamente. Però in quella favola raccontata da quel punto di vista lì, in quell'immaginario lì era, secondo me, perfetto. Però è chiaro che... No, assolutamente. È stato capito, infatti poi è diventato... È stato capito dopo. Allora, noi qui a Roma, però, il libanese era lo Scarface. Sì. Perché tutti i ragazzi romani, io ti dico 15 anni, io adesso ho 50 anni, io ce lo trovo 35, ero già un po' più grande, ma io ho visto dei ragazzi dei 20 anni. No, ma pure la generazione nostra, fino all'età mia, sicuro... Ma anche io me lo so visto e mi è piaciuto. Assolutamente. Adoro la serie Romanzo Criminale. I ragazzi Scarface, Salpacino e Libanese erano dentati alla stessa persona. Ti dico, una scena che io ho amato della serie, che ce ne sono tantissime, Piamo se Roma, quello e quell'altro, per carità, invece c'è stata una scena che ho amato, perché mi ha ricordato un po' i tempi di periferia, della GS, io sono cresciuto a Tornini a Tara, quando quella mattina vi siete incontrati la roulotte e avete fatto la pipì all'altra. Tutti e tre. Tu e il freddo e De Dandi. Quella è stata la scena romantica che mi è rimasta impressa, perché ritornavate la mattina, non so, non mi ricordo bene, tu stavi lì, sono venuti a trovarti e avete pisciato in compagnia. Mi ha ricordato le cari vecchie pisciate in compagnia. Ed erano bellissime, perché non c'era la criminalità, lì c'era il sogno di alcuni ragazzi, sbagliato, criminale, però l'amicizia, che l'amicizia nelle periferie è quello che ti porta avanti, tutti per uno, per tutti, chi piscia solo e l'altro è una spia, tutte ste frasi. No, ma credo che quello che dici, nel senso, la forza di Romanzo Criminale o di tante altre serie che trattano, non era chiaramente l'arroganza, la coattaggine, la pistola, la sigaretta e il potere, maschilista, macista, quello che vuoi, ma la scrittura ha lavorato egregiamente, secondo me, sul fatto che questi erano otto ragazzi del muretto che avevano un sogno, che era fondamentalmente un sogno di affermarsi. Poi è chiaro che noi parliamo in un campionato di criminalità, quindi è chiaro che il linguaggio è quello, le dinamiche relazionali sono quelle, però è quello che ha, tant'è che alla fine il mio personaggio, e credo che sia un grandissimo finale di stagione, si capisce che tutto quello che lui ha fatto era fondamentalmente per avere l'amore della madre. Il finale è stato tolto. E questa cosa che fa, questa cosa lavora dentro di te a livello umano e solidale, perché poi questo sai, i contesti in cui si raccontano le umanità sono sempre i pretesti per raccontare l'umanità. Quando sei andato da mamma tua alla fine che poi ti hanno ammazzato nel film, nella serie scusa, infatti è stato quello che ha colpito, mi ha fatto uscire, dico la verità, la lacrimina, perché non è stato tanto il fatto che se è sceso e è morto il libanese, gli hanno sparato il capo e è morto, ma è la mamma che gli ha facendo l'uomo che stava lì, perché il racconto del periferico eppure dei genitori, quello che loro sopportano, i figli che escono da casa non sanno che fine fanno, involontariamente e volontariamente lo sanno ma non vogliono vedere e non hanno la forza, e tu che volevi salvare tua madre da quel contesto, la maglietta, era tutto per comprargli la pelliccia, la pelliccia era quello, l'amore per la madre, ma questo fa secondo me la forza diciamo di questo racconto, cioè che è un racconto umano, anche Breaking Bad se ci pensi, io sono pazzo di Breaking Bad, lui inizia questo percorso imprevisto di vita, da cuoco, esatto, perché ha una diagnosi di un male terminale, non ha una lira, ha un figlio disabile, che ha bisogno di essere purtroppo sempre mantenuto anche economicamente, perché non potrà mai essere indipendente, ha una moglie che fa un lavoro modesto e quindi non hanno niente da parte, quindi che fa? Messo alle strette, abbatte la propria etica individuale, tra l'altro è bellissimo perché è un personaggio presentato come una grande personaggio, una persona grandemente etica, morale e si trova per mettere i soldi da parte per il futuro del figlio della moglie. Poi è chiaro che è geniale, anzi è purtroppo vera, che a un certo punto quello non è quello che era prima, lui era la sua maschera, quello che scopre è la sua essenza, e il finale era una roba potentissima, quando lui dice credevo di averlo fatto per la mia famiglia, invece l'ho fatto per me, è stato bello. Ora non è che voglio, come dire, spingere le persone a diventare... La canzone, la devi mettere, dopo questa frase, ha detto una frase dove inserire quel pezzettino adesso. Non si è stato pronto, Daniele, meno male che tagliamo e cuciamo. Ho detto che il finale di Breaking Bad, di lui, dice pensavo di averlo fatto per la mia famiglia, invece l'ho fatto per me, ed è stato bello. Ecco, esatto, magari, purtroppo non l'ho detta io questa frase, l'ha detta un grandissimo attore, ma comunque per dire, anche Breaking Bad è entrata a gambatesa nella... Cioè, ecco, secondo me, come romanzo criminale lo è stato per l'Italia, Breaking Bad lo è stato per il mondo, come... come dire, capacità di scrittura delle serie. Ci sono delle serie, come poi lo è stato il Trono di Spade su altri punti di vista, cioè ci sono dei libri, ci sono dei libri, delle serie, dei film, dei quadri, delle sculture, dei filosofi che c'è un primo e un dopo. Ci sono. E come se ci sono? Magari anche i mariani inconsapevoli, però ci non lo sanno, però ci sono. Ci sono, c'è un primo e dopo Einstein, no? C'è un primo e dopo Breaking Bad, so come dire. E c'è anche un dopo di te, perché adesso tu, giustamente, giustamente, perché dopo 15 anni noi scopriamo Montanari in altri ruoli, ruoli comici, ruoli seri, ruoli anche differenti. Variegato, dico. Lui è un attore. Misto fritto. Misto fritto. Misto fritto. Ci puoi spolverare, si dice spolverare, no? Brutto. Ci puoi spoilare... Spolverare è bello. Ti piace? Non spolverare. Ci puoi spolverare qualcosa che sta facendo di te. Adesso è uscito un film in Francia, il mio primo film in faccio francese, e sono molto contento perché mi piacciono molto, diciamo, le storie, come trattano certe storie francesi. Come si chiama, se posso? Eh, si chiama Bis Repetita, però non so com'è in italiano. Bis Repetita? Bis Repetita, che in realtà è una parola latina che loro chiamano Bis Repetita. Però non so quando, esatto, non so quando uscirà in Italia, adesso mi faranno sapere. Poi c'è un altro film che deve uscire su Netflix, penso, di cui purtroppo lo stai zitto, ma non rifacciamo il podcast, magari ve lo dico. No, no, non lo rifacciamo, lo rifacciamo. Poi... Censura. Censura? No, no, vabbè, tanto finché non dico i titoli, che si può dire. Poi sto per girare una serie, sto in tournée con Lino Guanciale, che saluto il mio caro amico, dirigo un teatro a Narni insieme al mio socio, il co-direttore Davide Sacco e Ilaria Cegi, con cui produciamo. Una vita impegnata, una vita impegnata. Sì, poi vengo da te, insomma, a scuola. Poi, quest'estate sono molto contento perché faccio Amleto, co-prodotto a Teatro Romano a Verona, inauguriamo il Festival Shakespeareano insieme a Franco Branciaroli, che è una pietra miliare del teatro italiano, se non europeo. Insomma, ci diamo da fa. Diciamo. L'incontro con Giancarlo Giannini. Giancarlo, direi. Che ti saluta, l'ho visto l'altro giorno. Abbiamo poco tempo, purtroppo, perché l'incontro... Ma Giancarlo... Come dire, io sono stato sei mesi con lui, praticamente tutti i giorni, ha già il grande gioco, ho fatto infiniti camera-car dove eravamo da soli, io e lui, io guidavo e lui parlava. E è stato bellissimo. E il suo mantra qual è? Ma frega un cazzo. Ma frega un cazzo. Ma frega un cazzo. No, però un giorno... Perché lui sai com'è, insomma, il personaggio che si porta appresso tutto quello che è stato essere Giancarlo Giannini in un tempo del cinema italiano mondiale. Cioè lui, voglio dire, se uno ci pensa, ha il suo nome nelle stelle di Hollywood, ha partecipato affinché hanno vinto Oscar. Cioè, insomma, parliamo di una personalità ormai purtroppo, dico purtroppo, molto rara nel nostro settore italiano. Sì. Forse è l'ultimo, no? Insieme a Sofia Loren, diciamo, che possono... Ricordare. Ricordare. E soprattutto, purtroppo ci ho trovato tanta malinconia. Che non è una malinconia del sono anziano ormai, ma è una malinconia di un sistema che lui non riconosce più. Il cinema è morto. Eh, capito? E non... E non che non riconosce più, vada bene, perché poi a un certo punto c'è sempre un gap generazionale, ovviamente, no? In tutte le cose... Ma perché obiettivamente la trasformazione che si è stata fatta è che, per tanti motivi e per tante responsabilità, di cui adesso non accuso, per carità, eh, io sono solo una piccola funzione, come tutti noi in questo mondo, però dico, lui ha visto dai fasti alla merda. Sì, capito? Cioè, e io penso che se tu nasci nei fasti e sprofondi nella merda, è più difficile che se nasci nella merda e ambisci ai fasti. Cioè, c'è un altro tipo di disillusione, di stanchismo. No, non che noi siamo tutti non stanchi, per carità di Dio, però intendo dire... E sai, ti ritrovi nella pace e a un certo punto scoppia la guerra. Penso sia per fare una metafora con tutte le pinze del caso, però penso sia questo. E quindi quello c'è tanto dispiacere. E questo dispiacere, secondo me, lo fa molto arrabbiare. E allora diventa molto... Duro. Non si vergogna di dimostrare la sua rabbia, ecco, diciamo così. E di dirlo a tutti. E di dirlo a chiunque. E di dirlo a chiunque. Non gli importa niente. Che poi molto spesso viene travisato, secondo me, perché viene preso anche per soltanto un contenitore di aneddoti che ripete, no? Ma in realtà il suo dire gli aneddoti non è voler fare il maestro sul piedistallo, è voler dire, secondo me almeno, un grido di speranza a qualcosa che lui non vivrà più chiaramente, perché ormai è molto anziano, ma... E consapevole, eh. E consapevole, certo. Ma che magari voi potete ricostruirla, sta cosa. Certo che serve, come dì, tempo per fare questo ragionamento, serve la volontà, quindi lo capisco. Poi nella gestione è chiaro che poi c'è sempre una relazione che ci sta che puoi, come dire, no, rimanerci un po' spaisato, ecco. Possiamo dire così? Sì. Poi tu conosci benissimo che ti stai per farlo, no? L'ho visto l'altro giorno. Da un bar all'altro, metà appuntamento, viene il caffè, no, aspetta, scappiamo, andiamo, ma c'è che vuoi perché non chiudi. Esatto. Lo amo. È complesso, ecco. Allora, noi oggi qui abbiamo avuto l'onore di incontrare Montanari e non il libanese. E anche se noi siamo i good fellas, e ci piace il genere criminale, e il libanese ha fatto la storia fra i ragazzi, fra i giovani. Io stavo con il libanese! Stavo con il libanese! Stasera torna a casa e a mamma gli faccia, io stavo con il libanese. Ora scopriamo qui un vero attore. Voglio bene, voglio bene, voglio bene, voglio bene. No, 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 questo è un uomo che ha studiato e che studia. Salutiamo nuovamente. Senti che poi c'è sotto. Salutiamo nuovamente. Sul padrino è bello, poi. Il Montanari. Senti che ti bloccano. Ricordiamogli che è stato un vero piacere averlo qui. Grazie. Ed è un onore... Piacere mio. ...reinvitarlo. Quando vuoi. Lo stimiamo. Recipro. Non ci spara sulle gambe. No, no, ti ho detto, ho dismesso. E ricordo il ragazzo che sta qui davanti che prima non ha capito la frase che hai detto. L'ho capito. Non l'ha capita. Dei fassati, dei fassati, dei fassati. Ti ha guardato con un occhio tipo, ma che sta a te? Però aveva paura di te. No, 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 io ho capito. La famiglia. Ciao, Montanari. Ciao, ragazzi. Grazie, Montanari. Grazie a tutti, da Gottefair. Io stavo con l'Italoso! Io stavo con l'Italoso!